Ciao traders, siamo qui con Ariel e la Bella Addormentata, presi a prestito da mia figlia, perché vi voglio fare una considerazione, mi servivano due personaggi, ho trovato questi. Allora, Ariel e la Bella Addormentata nel bosco hanno fatto 100 pips questa settimana, è un grande risultato perché a leva 1, pensate, ho 1000 euro, entro con un microlotto con 1000, è l'1% 100 pips, quindi sono entrambe contente di questo risultato, ma una delle due non dovrebbe dormire sogni tranquilli. Vediamo perché. Perché Ariel ha guadagnato questi 100 pips, rischiando 5 pips per ottenerne 7, 20 pips per ottenerne 30, 40, 20 pips per ottenerne 20. Quindi la sua curva di equity è cresciuta proporzionalmente al rischio che Ariel si è preso. E cosa dire invece della Bella Addormentata? Che in realtà ha rischiato 50 pips per ottenerne 10, 70 pips per ottenerne 10. E quindi è chiaro che nel momento in cui prenderà effettivamente gli stop, adesso non se ne è accorta perché gli è andata bene questa settimana, non li ha presi, ma quando li prenderà uno stop loss la porterà indietro di 4-5 operazioni. E questo è spiacevolissimo. Poi vi vengono in mente cose da fare, tipo forzare la mano, recuperare, perché non accettate che quell'operazione abbia sciupato un mese del vostro lavoro. Quindi mi raccomando, a prescindere da qualsiasi cosa facciate nel trading, domandatevi, sono contento se state guadagnando, ma domandatevi come, perché se state guadagnando in questa maniera, rischiando, avete guadagnato 1000€ ma l'avete fatto, rischiando 1000€ a trade, magari portando a casa 100€ e facendo poi 10 operazioni, è incredibilmente scorretto. Prima o poi arriva il giorno del giudizio. Riflettite su questa cosa, attenzione al risk reward e buon trading. Ciao a tutti.